Parte la nuova QX5 ed ecco il primo in assoluto della QX5 Presentati e spiega cosa hai fatto La tua impresa Sono genitoni e praticamente è la mia prima giornata di cross Diciamo che ho passato un paio di giornate con Giovannelli per potermi chiarire un po' le idee Sei stato primo nella prima manche Sì, dopo la seconda manche ho migliorato un po' la partenza Poi però non ce l'ho fatta via a rimontare, sono rimasto dietro al secondo E poi dopo sono andato a prendere il primo e ho avuto difficoltà a sorpassarlo Ho fatto tanti errori, quindi alla fine ho terminato secondo ma sono contento E la modesta di questo ragazzo è il fatto che ha fatto tanti errori e è arrivato primo Bravo, ti abbiamo visto nelle piste di fettucciato Speriamo di vederti il prossimo anno appunto nelle piste di crosse Beh, penso che non mancherò È molto emozionante, mi piace, molto bello In bocca al lupo per le prossime gare, ciao e ti ringraziamo per l'intervista